A Messina, Onyx Design, direttamente dal Messico per voi pezzi di bamboniere e regali originali a partire da 4 euro. Onyx Design effettua spedizioni in tutta Italia. Onyx Design, negozio unico in Italia, vi aspetta nei locali di Messina in via 27 luglio 56. visite il nostro sito internet www.onixdesign.com e la nostra pagina facebook